Pausa caffèuccio, non ho capito la domanda Questa tazzina sta qua Di solito le tazzine devono stare Perché c'è lo spazio del cucchiaino Però io continuamente la metto qua E' cara tazzina Brava Che noi qualunque viaggio facciamo Abbiamo solo Gira, gira, gira Dove stiamo andando Annalia? A pranzo? A pranzo, Porto Santo Stefano Così, da amici Porto Santo Stefano Guarda Angelicuccia come si è apparecchiata oggi Angela sai questa canzone di El Ciran? Non la ricordo Facciamo una piccola fermata Prendete un caffèuccio Caffèuccio Bene, oggi tutta l'allegra scopo e comitiva Si sposta a Porto Santo Stefano Per un pranzo Per cui state collegate Iscriviti al nostro canale